Lo spiovente di Di Natale, pallone messo giù e poi il tentativo di Domizzi, scheggiata la traversa Il destro di Totti e la palla è fuori Insiste Isla, la palla era sul sinistro, ancora Di Natale, Di Natale! Deviazione in calcio d'angolo di Giulio Sergio Di Natale, prova a mettere dentro, tiro di Floro Flores ribattuto, Floro Flores! Giulio Sergio in calcio d'angolo, Ludinesi ha un passo dal vantaggio Movimento di Borriello sul primo palo, ancora Borriello, prova a liberarsi Lì fuori la palla per Totti, prova Totti! La respinta di Andanovic, Juan! Sul fondo il tiro di Juan La Roma torna in avanti però con Menes Ancora Menes Va detto da solo, Menes! Menes! Che bellezza! 1-0! La Roma è passata in vantaggio con Jeremy Menes Al ventiquattresimo del primo tempo E per Menes si tratta del primo gol in questo campionato Di Natale Ancora Di Natale, prova a liberarsi Il cross di Di Natale E la palla sfiora Il palo alla destra di Giulio Sergio Attacca Menes in posizione di alla sinistra Adesso Totti In zona tiro Prova Totti Il palo netto E a momenti fa 2-0 La palla era sfuggita da Andanovic Floro Flores Ancora Floro Flores Diagonale velenoso E parata di Giulio Sergio E' partito Menes Azione solitaria di Menes Adesso Borriello Borriello Ancora Borriello Prova a calciare Borriello 2-0 Borriello ha raddoppiato Gol di forza Di potenza Qui c'è l'attacco Floro Flores Giulio Sergio Ha evitato che l'Udinese riaprisse la partita Si rimane sul 2-0 Floro Flores In lotta Con Castellini A limite dell'area La conclusione allontanata Si tratta di rimessa dal fondo Floro Flores La battuta di Totti Andanovic E' stato anticipato Fallo in attacco Calcio di posizione In favore dell'Udinese Cartellino rosso per Burdisso Che è stato espulso E qui Burdisso va direttamente Addosso a Donizzi E gli dà un colpo Badu All'indietro C'è Sanchez Prova Sanchez Palo di Sanchez Sulla respinta Juan Arriva Coda Prova a mettere dentro Coda L'apertura per Di Natale Posizione regolare Ancora Di Natale Prova a rientrare Mexes E poi il colpo di testa In rete di Dennis Fuori gioco però Gol annullato Eccolo il tiro di Domizzi Dennis però non è in fuori gioco Esatto Dennis è in posizione regolare